Prendere o lasciare. La svizzera Glencore, impegnata all'acquisizione dell'azienda minerale X-Trata, alza la voce. A febbraio aveva fatto un'offerta di acquisto da 30 miliardi di dollari, ma uno degli azionisti, il Fondo Sovrano del Qatar, a giugno ha rifiutato l'offerta di concambio. Oggi, dopo una semestrale, migliore del previsto l'avvertimento dall'amministratore delegato Gleisenberg. Questa è l'offerta. Gli azionisti scelgano.